contatto di oggi lunedì 17 ottobre 2011 benvenuti e ovviamente grazie anche per il sostegno che molti di voi mi danno tramite commenti i messaggi che mi arrivano un progetto che sto cercando di portare avanti con grande modestia ma soprattutto anche con grande obiettività al di là di quello che è successo a roma ovviamente è l'argomento principe della giornata e lo sarà sicuramente anche per i prossimi giorni è passata completamente in sordina la elezione del presidente regionale in molise ebbene mentre sto registrando questo contatto sono le 8 di sera sto seguendo lo spoglio dal ministero dell'interno visto che si sono chiuse le urne in molise alle 3 del pomeriggio ci sono i primi risultati le prime proiezioni che danno dunque il presidente uscente Iorio Michele Iorio vincente ancora una volta in molise dunque Michele Iorio attualmente con circa il 12 per cento delle dei seggi scrutinati 44 su 392 poco più del 10 per cento sta ottenendo un 52,14 per cento contro il 43,30 del candidato di centro-sinistra Paolo Frattura c'è anche il movimento 5 stelle che si inserisce in questo duello che fa diciamo da terza gamba sta ottenendo un 3,42 per cento ricordiamo che il movimento 5 stelle è la prima volta che si candida in molise il movimento creato da Beppe Grillo che sta staccando di due o tre punti il candidato della destra giovane carmine mancini che si ferma a un 1,13 per cento una lista di disturbo insomma comunque il movimento viaggia sul 3 e mezzo che non so se potrà portare riuscirà a portare un consigliere regionale in molise certo è che Iorio dunque si sta preparando a riconfermarsi per la terza volta presidente della regione molise un presidente che quindi viene ricandidato alla faccia delle due legislature previste esattamente come Formigoni in Lombardia come Rani in Emilia Romagna e dunque anche Iorio continua la sua avventura politica però è vero che Iorio se ne frega delle regole e quindi diventerà per la terza volta presidente un po' come è stato per Formigoni e per Rani però è anche vero che ci sono molti molisani in questo caso che l'hanno votato per cui è lecito chiedo io dare solo colpa al politico prendersela soltanto col candidato che alla fine viene votato o sarebbe più opportuno essere meno ipocriti e come dire giudicare anche la qualità degli elettori che se ne fregano a loro volta del candidato illegittimo diciamo così e lo votano ugualmente ben sapendo che non dovrebbero votarlo e che non dovrebbe neanche essere candidato in quanto ha già fatto due legislature quindi adesso le critiche van bene ai politici però le critiche secondo me vanno fatte innanzitutto ai cittadini perché se è sì vero che il movimento 5 stelle non è più giovanissimo da due anni che è in giro se ne parla molto in rete è vero che in molise la rete non è diffusa come al nord ci sono meno giovani una serie di varianti però però alla luce di certi risultati che il movimento ha ottenuto a bologna e anche in altre realtà a discapito anche del dettaglio dei valori soprattutto che ne ha fatto le spese più di altri partiti io francamente mi aspetterei un risultato maggiore da parte del movimento se anche i candidati in molise non so che tipo di campagna elettorale abbiano fatto hanno speso 1500 euro sentendo beppe grillo dai video postati su youtube durante le sue apparizioni in molise a campo basso e a isernia ecco un 3 42 io non so se sarà un buon risultato e se soprattutto servirà a portare in consiglio regionale uno di quei ragazzi candidati certo è che il 52 per cento dei molisani che hanno avuto diritto al voto sono andati a votare di odio e soprattutto dato importante c'è stato un calo vistoso rispetto alle ultime elezioni regionali di cinque anni fa il 6 per cento in meno dei cittadini si sono arrecati alle urne infatti in molise hanno votato meno del 60 per cento degli aventi diritto pensate che se ci fosse stato il quorum probabilmente avrebbe passato appena appena perché se fermato al 59 e poco per cento dunque una grande massa di cittadini non ha votato cioè oltre il 40 per cento degli aventi diritto del voto oltre il 40 per cento dei molisani ha disertato le urne non si sono presentati a esprimere la loro preferenza e dunque questi potevano tendenzialmente essere dei menefreghisti di gente che non vota più seduciati teoricamente l'elettorato ideale per il movimento 5 stelle che se lo capisse nella sua filosofia probabilmente avrebbe magari anche come dire non dico il 40 però una buona parte di questi cittadini se fossero correttamente informati o forse questi 40 questo 40 per cento ritiene anche il movimento 5 stelle esattamente come gli altri sbagliando benissimo però questo è il livello attuale è la fotografia attuale triste che dobbiamo fare di una fetta d'italia in molise una parte piccola una regione molto piccola con pochi abitanti comunque una fetta d'italia che sicuramente rappresenta un campione un campione dal quale il centrodestra trarrà le sue conclusioni vedrete che domani martedì libero il giornale sarà un trionfo per berlusconi vincendo iorio in quanto candidato del pdl pur essendo un vecchio elefante della democrazia cristiana quindi canteranno vittoria diranno avete visto berlusconi berlusconi qui berlusconi la la vitola le intercettazioni berlusconi piace tiranno e cavalcheranno questo filone minzolini se questi minuti è in onda non so il tg1 non lo vedo da anni per mia fortuna non so se stia facendo un editoriale adesso in difesa di berlusconi partendo da iorio benché la regione sia piccola quindi questo per dirvi che alla fine dobbiamo fare i conti con quello che siamo noi cari telespettatori noi italiani che genere di cittadini siamo o siamo nefreghisti oppure votiamo sempre quelli perché ci garantiscono la pappa sostanzialmente e questo esce questo quadro dal molise mentre quindi faccio un refresh della pagina ero dicevo a 44 seggi scrutinati su circa 390 392 e dunque iorio si avvia alla vittoria salvo salvo novità iorio è questo michele iorio governatore dal 2001 peraltro è anche indagato per truffa aggravata e abuso d'ufficio dell'ambito dell'inchiesta che riguarda il depuratore di termoli perché avrebbe anche nominato un commissario amico suo ovviamente saltando tutte le regole del bando però evidentemente i molisani va bene così cioè anche se è indagato di abuso d'ufficio certo non è non è condannato probabilmente molti molisani quelli che lo hanno votato lo giudicheranno sotto un'altra luce e comunque iorio precede il candidato di centrosinistra che è questo signore che è michele frattura o matteo frattura non ricordo il nome insomma candidato di centrosinistra che quindi perde le elezioni e sarà sicuramente il capo dell'opposizione non so in questo momento italia dei valori cosa ha ottenuto lo sapremo domani comunque tanto per dare un'occhiata alle elezioni di cinque anni fa nel molise iorio vinse con 54,14 per cento schierato col centrodestra mentre il centrosinistra ottenne il 45,86 per cento era roberto ruta il candidato del centrosinistra cinque anni fa per l'allora unione se ricorderete di prodi dicevo dunque 54,14 a iorio 45,86 al centrosinistra in questa tornata il centrosinistra si ferma al 42,70 parziale dunque perde quei due punti che probabilmente si sono travasati in parte nel movimento 5 stelle di Beppe Grillo e peraltro va registrata che un altro dato che insomma che cinque anni fa votarono il 65 per cento dagli aventi diritto quindi sei punti in più molti più molisani andarono alle urne quattro anni fa cinque anni fa mentre invece oggi sono fermi al 59 per cento dunque il partito degli astensionisti di coloro che se ne fottono dallo stato se ne fottono dalla politica è in crescita ed è un partito importante quello sì che è un partito che pesa perché i molise sono del 41 per cento e questo è un dato che non va assolutamente dimenticato anche da parte del movimento 5 stelle che deve farsi un esame di coscienza rendersi conto che purtroppo è ovviamente fuori dal circuito dello spoil system televisivo rendersi conto che fare tutto solo con la rete non è così semplice in questa Italia dove la rete viene frenata e hanno capito l'importanza dove abbiamo un presidente del consiglio che è in conflitto di interessi che è un editore che non paga nulla o da solo l'un per cento del ricavo pur di tenersi delle frequenze non sue ma che si fa sue con legge con legge da sultanato ecco quindi in una condizione così chiaramente non è semplice cambiare le cose non è semplice cambiare il corso della storia e quindi bisogna affidarsi ai giovani però io dico se il movimento si fermerà al 3 per cento sarà secondo me un risultato non del tutto soddisfacente perché certamente doveva attendersi di più abbiamo parlato di Iorio che è un presidente quindi che per la terza volta diventerà numero uno rimarrà di fatto il capo indiscurso del Molise Vasco Errani in Emilia Romagna per il centrosinistra e ho detto anche Roberto Formigoni che addirittura ricorderete ha presentato una lista con diverse firme false oggetto di sentenze oggetto anche del suo interessamento con l'uomine della P3 che voleva Formigoni chiamava Martino Arcangelo per dire ma com'è che questo qua mi ha cassato questo di Milano la Corte d'Appello mi ha bocciato la lista non si può fare qualcosa no? Ebbene Formigoni per esempio come vedete lui ha un suo seguito è stato votato da molti lombardi perché evidentemente hanno un ritorno non so chiamalo voto di scambio non lo so perché cosa vedono i Formigoni se non un interesse economico diretto non lo so non dico un bonifico può essere un appalto un lavoro una garanzia questo è su questo si costruisce il voto in Italia siamo noi i marci dentro siamo noi quelli che non capiamo cos'è il senso civico e non capiamo cos'è il valore di una persona noi guardiamo il nostro sporco interesse e basta comunque Formigoni giustamente adesso se ne frega delle regole è Presidente per la quarta volta in Lombardia organizza convegni e ci sono anche dei giovani giovani che lo seguono come queste immagini dimostrano io dico largo ai giovani perché voglio che questa classe dirigente del PDL che si sta formando sia una classe preparata sia una classe che potrà occupare delle posizioni di rilievo e sarà veramente preparata largo ai giovani è uno slogan che noi condividiamo a pieno e appunto per questo siamo qua per proporre delle idee concrete delle proposte importanti che i giovani possono dare credo nel mio paese credo che le cose vadano cambiate noi giovani abbiamo la prospettiva la forza e l'energia per poterlo fare l'idea per quanto riguarda il partito sono le primarie a tutti i diretti è il concetto di un voto e una testa l'idea per il governo per noi ho il wifi gratuito e la banda larga di tutta Italia che per noi ci permette di comunicare con il resto del mondo sono 350 ragazzi che hanno deciso di metterci la faccia di trovarsi tutti nello stesso luogo e poter parlare di politica, di emozioni, di iniziative e poterseli scambiare quello che Polmigoni ha fatto anche con il suo portale Polmigoni.it per cui alla fine ci siamo ritrovati con la voglia di far crescere, di far bene di dare un contributo concreto e serio sia al partito che anche al governo molti di questi giovani già fanno politica perché hanno avuto il coraggio di metterci la faccia se non sono fatti eleggere nei consigli comunali si fanno un mazzo tanto se posso parlare in dialetto e quindi questo è già un applauso ma noi abbiamo bisogno dei giovani che si mettano in politica perché la politica ha bisogno di idee nuove di idee di rinnovamento, di idee di meritocrazia questo titoli meritocratici mi piace un casino perché quello di cui ha bisogno è l'Italia quindi non posso che degli andate avanti su questa strada che è la strada di tutti sono venuta qui per cercare nuove soluzioni e per dare nuove idee a questo paese io vengo dalla provincia di Reggio Emilia una terra rossa e difficile siamo venuti, almeno sono venuto io qua per dimostrare la mia presenza a questa manifestazione per dire sì al merito e no alle caste partecipazione dei giovani e appunto permettere ai giovani di esprimersi all'interno dei partiti che sono monopolizzati da gente che è lì da ormai anni e anni e anni quello che io mi aspetto come giovane che avrebbe piacere inserirsi in politica è innanzitutto una propensione dei politici a stare con la gente, a stare con le persone, a stare sul territorio e soprattutto merito come questo convegno insegna merito, capacità, competenza viva il merito, viva la responsabilità personale viva l'impegno, viva il popolo e la libertà che realizzerà questi obiettivi ecco, avete sentito questo discorso, questo ritrovo di giovani io non so a questi giovani in che tipo di meritocrazia credono e che valori abbiano della politica e quanta informazione abbiano e che senso abbiano dello Stato e delle istituzioni non lo so mi preoccupa questa cosa ma non perché abbia qualcosa contro Formigoni ma perché sono lì difendono un politico, un modello di politica che le regole attuali non le rispetta sostanzialmente cos'è il cambiamento che vogliono? stravolgere il regolamento cioè autorizzare e legittimare la politica che si impossessa in maniera privatistica delle istituzioni, della sanità, degli appalti far finta di nulla cioè questo che vogliono questi giovani cioè parliamone molto chiaramente comunione e liberazione il prossimo partito è quello che ci aspetta dopo Silvio Berlusconi sarà meglio, sarà molto peggio rispetto all'attuale visto che comunque comunione e liberazione ha già le mani in pasta questi giovani cosa hanno da guadagnarci? perché credono in Formigoni? cosa ci guadagnano a fine mese? sono impiegati in qualche ospedale? hanno preso qualche appalto? hanno il papà che magari si è arricchito con gli appalti di Cielli? non lo so sono domande legittime che dobbiamo porci perché dobbiamo capire anche dove va la politica quanto potranno influire questi giovani sull'elettorato che gli sta loro attorno? quante famiglie avranno nel palazzo che sanno che il figlio di quello lì frequenta Formigoni e va al convegno di Formigoni e quindi è da guardare con rispetto? quanta ipocrisia c'è dietro tutto questo andazzo? e quindi quanti voti si nascondono e si nasconderanno e che poi si paleseranno alle prossime elezioni regionali piuttosto che nazionali? dunque è ovviamente una riflessione che va andrebbe fatta prima di essere solo capaci di fare immoralisti guardare solo in faccia la Costituzione e dire e solo la magistratura cioè dobbiamo anche fare i conti con la realtà e pesare quello che le persone che abbiamo attorno pensano nella loro testa e come agiscono e quanto credono nei cosiddetti valori che noi spesso andiamo predicando comunque l'argomento della giornata rimane ovviamente il casino che c'è stato a Roma come vi dicevo ieri Maroni arriva con leggi speciali contro i violenti Maroni d'accordo con Di Pietro Di Pietro che in un'intervista che ha pubblicato anche sul suo blog dice che sarebbe opportuno rifare la legge reale dal nome e dal cognome di un deputato anni 70 Oronzo Reale allora ministro della giustizia che fu relatore del provvedimento che nel 75 nel pieno degli anni di piombo garantiva il diritto delle forze dell'ordine ad utilizzare armi in caso di necessità enorme sull'identificazione dei cittadini sostanzialmente il li vieto di usare caschi e coprire il volto e sulla custodia preventiva irricevibile lo sostiene appunto anche il leader dei Verdi Angelo Bonelli che aggiunge noi Verdi siamo stati tra i primi a condannare con durissima fermezza gli scontri del 15 ottobre i violenti che hanno dato vita a quella guerriglia vanno immediatamente arrestati e puniti severamente dunque continua questa pioggia di informazioni e questa pioggia di messaggi secondo i quali bisogna assolutamente convincere il maggior numero di italiani possibile che quei disordini che sono stati causati a Roma sono opera soltanto di una minoranza di faccinorosi di black bloc soltanto 500 giovani che si sono organizzati peraltro Repubblica ha messo in prima pagina un'intervista rubata da un paio di loro giornalisti a uno dei partecipanti di questi black bloc che dunque dice siamo solo all'inizio lo faremo di nuovo ci siamo organizzati ci siamo preparati ad Atene ci siamo allenati abbiamo nascosto armi e munizioni nei cantieri della metropolitana abbiamo messo dei sacchetti vicino ai Bancomat come bersagli possibili da colpire insomma una serie di indizi che oggi vengono svelati da Repubblica ma anche da Corriere per esempio e che vanno a in qualche modo ad allarmare la casta che quindi ha bisogno di trovare chiaramente il colpevole separare il buono dal cattivo cioè loro sono i buoni loro che difendono il puttaniere che difendono un plurimputato di evasione fiscale uno che comunque ha pagato leader mafiosi negli anni addietro uno che ha preso bombe in casa che le ha giudicate scherzetti gli ha reputati scherzetti piacevoli con dell'utri o comunque scherzetti da così cioè capite un capo del governo così questo qua va difeso che rimane lì per un voto e i soliti faccinorosi violenti che saccheggiano la città e che quindi sono da ovviamente bandire è chiaro che sono da bandire ma sono un segnale sono un segnale del disagio diffuso di una parte d'Italia sì con pochi giovani italiani ma quei pochi che forse magari si fanno sentire che sono disperati a tal punto che non hanno più niente da perdere e allora utilizzano anche queste occasioni per far casino e per esporsi perché non credo che siano contenti di rischiare manganellate di passarsi per mano fumogeni e dar fuoco alle auto non penso che sia così divertente perché comunque qualcosa rischi sulla tua pelle in ogni caso facendo quel tipo di azioni nella capitale con i celerini sapendo che ci sono centinaia di telefonini e telecamere che ti riprendono che poi ti faranno vedere perché alcuni giornali stanno già pubblicando le facce di questi presunti violenti uno di questi è il giornale che raccoglie segnalazioni di immagini di questi presunti violenti e le mette in prima pagina per cercare l'identificazione anche se 12 di loro sono già stati arrestati e uno di loro è figlio di un funzionario di Banca Italia attualmente mentre vi parlo non so il nome di questo ragazzo il figlio di questo funzionario fatto sta che qui c'è questa raccolta di foto di ragazzi anche se io stento a credere che una minoranza di faccino rose sia stata in grado di trasformare Roma come Atene io non ci credo assolutamente quindi non credo al buono e al cattivo credo che questo sia un segnale che vada letto in una chiave futuristica perché qui abbiamo ovviamente una generazione intera e mezza perché comprende anche non solo i ventenni ma anche i quarantenni come me dicevo molti che non hanno più niente pagano tasse per non avere la pensione si sentono presi per il culo da questa classe politica da questa generazione di politici e che quindi non avendo niente da perdere reagiscono in questo modo comunque argomenti dei giornali prima di chiudere se no mi dilungo troppo Repubblica apre con Maroni evitato il morto dice ma è bufera sul Viminale gli indignati denunciamo i violenti Berlusconi ecco le telefonate shock con la vitola questo è un titolo un po' effetto perché Berlusconi alla vitola viene fuori che gli va a dire che buttiamo giù il palazzo della giustizia di Milano gli va a dire cose che secondo me sono meno gravi di quelle che ha detto in pubblico perché quando un presidente del consiglio arriva a dire in piazza che i magistrati sono un'associazione a delinquere facendo tutta l'erba un fascio no? visto che qualche delinquente c'è in magistratura ma dire che sono un'associazione a delinquere da parte di un capo del governo io penso che sia una frase di una eversione tale che se gli italiani l'hanno digerita quelle cose che dice la vitola sono cazzate rispetto a quello che ha detto in pubblico quindi qui c'è un po' di enfasi secondo me su Repubblica legata a quello che Berlusconi dice alla vitola in privato che poi liquida perché la vitola gli dice guarda che ti fanno fuori guarda che diventi bersaglio e lui mette giù Berlusconi rompe la telefonata dunque altri argomenti che volevo segnalarvi dai giornali oggi al di là poi degli anarchici di questa intervista all'indignato che spiega tutti i trucchi di come si sono organizzati di come si sono allenati c'è questo articolino di pannella cacciato dal corteo al grido di venduto allontanato dal corteo degli indignati per il comportamento dei radicali nell'ultima fiducia al governo qui non si è capito hanno sì o no garantito il numero legale i radicali votando la fiducia al governo Berlusconi c'è chi dice sì c'è chi dice no secondo me sì la loro presenza in aula avendo quindi disobbedito al PD di fatto hanno come dire garantito il numero legale e che se non ci fosse stato magari Berlusconi sarebbe caduto quindi i radicali si becca gli sputi gli insulti di questi militanti perché pannella è andato al corteo di Roma e quindi lo hanno cacciato quindi ci sono tipo 12 pagine dedicate ancora agli effetti e agli strascichi di questa vicenda di Roma le telefonate shock di Berlusconi sempre di Repubblica poi c'è la reazione di Fini che chiede al ministro romano di dimettersi provocando ovviamente lo sdegno dell'ex ministro della giustizia Alfano Banca Italia da quattro mesi di stallo il Quirinale in pressing ma il governo non decide Banca Italia non si è ancora capito chi dovrà andare a prendere il posto di Mario Draghi se Grilli, se Saccomanni, se Bini Smaghi ricordiamo che il ministero dello sviluppo economico è stato molto di più di quattro mesi senza ministro quando l'inconsapevole scaiola si è dimesso dopo 11 giorni di benzogne e ha dovuto farlo perché appunto si era visto regalare la casa via del Fagutale prima che fosse sostituito da Romani no del PD alle primarie subito le faremo dopo il programma magari fatele dopo le elezioni così fate prima abbiamo capito che non c'è leader nel centro-sinistra però questo non è che mi preoccupi perché alla fine Renzi, Vendola, Di Pietro, faccia che conosciamo è che nessuno di queste potrà prendere il 50% diciamocelo chiaro, nessuno di questi leader di centro-sinistra potrà valere il 50% ci vorrebbe, ma neanche Bersani sono candidati per venti tutti perché sono troppo collocati, troppo posizionati e rappresentano troppo dei partiti ben radicati e quindi non potranno mai ottenere il 50% secondo me e poi passerei questo punto al Corriere velocemente così hanno preparato l'attacco in prima pagina addestrati in Valsusa ammazza in bombe carta nascoste lungo il percorso due editoriali di due un po' lecchini di Berlusconi niente illusioni, quella piazza non era pacifica scrive Piero Stellino qui con questa civetta che poi si dilunga internamente al giornale e qui l'inaccettabile vecchio vizio di giustificarli di Pierluigi Battista rifacendosi in parte a quello che ha scritto nell'editoriale del manifesto che leggono in quattro gatti in prima pagina in cui appunto il direttore in qualche modo dice che questi black bloc vanno capiti ha rilasciato quell'intervista e quindi sollevando polemiche ma non è possibile che tu parli quasi come Grillo e poi editoriale del direttore del Corriere Ferruccio De Bortoli la missione dei cattolici e parte così il paese ha bisogno dei cattolici punto la ricostruzione civile, morale non sarà possibile senza un loro diverso e rinnovato impegno politico ecco questa frase è una frase davvero da paese del terzo mondo perché io non sono cattolico sono ateo parlo personalmente di me non ho mai commesso reati non ho mai fatto del male a nessuno penso di comportarmi civilmente in mezzo a tutti non ho senso dell'odio non ho mai ammazzato e faccio molto bene a meno e tranquillamente meno dei preti anzi che mi stiano alla larga quindi non vedo perché per far politica per insegnare i valori ci sia bisogno dei cattolici non c'è bisogno di essere cattolici basta essere intelligenti un pochino istruiti avere un po' di senso civico e capire che se tu fai un altro ciò che a te non vorresti che fosse fatto sbagli sostanzialmente non mi sembra un concetto che si lega molto al cattolicismo quindi un direttore del Corriere che scrive queste cose che esaltisce così francamente mi lascia assai perplesso per non dire indignato o indignados anche qui buffone venduto e pannella è stato cacciato da corteo un articolo in coda una pagina questo governo non può durare maggioranza ampia o si voterà presto firmato Beppe Pisano un volto nuovo della politica italiana che quindi arriva a proporre un elefante che lì ha avuto da quasi 40 anni che dice serve invece un esecutivo senza precedenti per una situazione senza precedenti e dunque ci vorrebbero anche interviste senza precedenti e queste sono anche ammissioni senza precedenti perché un elefante che dice che senza precedenti bisogna cambiare che lo dice lui che ha un precedente di 40 anni dovrebbe lui per primo magari evitare di fare lo scaiolano di fare il frondista di turno e levarsi dai coglioni e magari lasciare spazio a qualcun altro ma sappiamo che l'Italia è il paese farlocco di chi vota Iorio caldoro pronti ad abolire la doppia indennità una legge della regione campania approvata nel 2005 consente a chi è stato assessore o consigliere e diventa parlamentare di mantenere il vitalizio per aver fatto parte del governo o dell'assemblea locale e cumularlo con l'indennità di deputato o senatore e dunque dopo che Sergio Rizzo e Stella hanno rivelato questo trucchetto che consente il doppio stipendio dunque caldoro è pronto dire ad abolire la doppia indennità essere pronti non significa farlo ovviamente bisogna prima essere sgamati da politici furbacchioni e poi quando ti sgamano allora dici a quel punto la aboliamo in un altro paese si dimetterebbe subito al volo una cosa così provocarebbe le dimissioni qui invece provoca una timida reazione a pagina 17 tanto per cambiare con una promessa vaga mi impegnerò a fare in modo che il consiglio regionale rebochi questa schifezza va bene prima di chiudere un refresh velocissimo per quanto riguarda le elezioni regionali in Molise vediamo un po' siamo a 55 liste 55 seggi su 392 il 15% circa Iorio rimane in vantaggio di quasi 3 punti sul 50% ma sul centro-sinistra è in vantaggio di 10 punti tondi 52 83% per Iorio sostenuto dall'Udeur di Mastella dal Molise Civile PDL Udc Pionati Grande Sud contro il candidato di centro-sinistra ferma un 42 97 sostenuto da Rifondazione Italia dei Valori Partito Democratico Sinistra Ecologia e Libertà Socialisti Alternative un'altra lista francamente che non capisco un pochino in discesa il Movimento 5 Stelle a inizio puntata era dato al 3,47 adesso è al 3 netti quindi ribadisco purtroppo un risultato secondo me poco soddisfacente che forse non ha reso l'idea e forse non è stato sufficiente per far capire a quel grande partito cioè il 41% degli astensionisti molisani che magari avevano davvero un'opportunità di avere dei rappresentanti che intanto si tagliano lo stipendio e che poi insomma sono giovani sono davvero facce nuove e che magari potevano potevano cominciare dal Molise a cambiare l'Italia evidentemente invece ha deciso che il Molise rimarrà quello di prima e quindi non cambia niente almeno per ora grazie è tutto ci vediamo presto